E allora buongiorno e bentornata a De Letta Savarino, referente analisi economiche Banco Postafondi, SGR. Allora Letta, partiamo subito dalle nostre tasche. In questi giorni in tutta Europa i prezzi sono schizzati alle stelle delle bollette. Che cosa sta succedendo ai mercati delle materie prime? Quali sono le conseguenze per i beni di consumo e soprattutto come possiamo più che altro difendere il nostro potere d'acquisto? Sì, è nata una specie di tempesta perfetta. Ci sono una serie di elementi che hanno spinto e stanno spingendo a rialzo i prezzi dei beni energetici. C'è un tema climatico, un inverno lungo, più lungo del previsto, il vento che non soffia a largo del Regno Unito, dove peraltro si produce la gran parte dell'energia eolica per l'Europa. C'è un tema geopolitico che ha a che fare per esempio con la Russia e con le consegne di gas all'Europa. C'è tipicamente un tema da ripresa del ciclo economico globale. Il ciclo economico si riprende e quindi tutto questo alimenta la richiesta di energia. E poi non da ultimo c'è anche un tema che ha a che fare la transizione verso un pianeta di emissioni zero. E in questa fase tutto questo sta mettendo in evidenza proprio i limiti delle energie rinnovabili, costi economici e sociali delle energie rinnovabili, il ritardo nel progresso tecnologico. Ecco tutto questo ha concorso a un aumento importante dei beni energetici. Dov'è che è più visibile questo aumento? Beh nelle macro aree che tipicamente consumano più di quanto producono, per esempio in Europa e in Cina. In Italia l'abbiamo visto già dallo scorso trimestre l'aumento delle bollette energetiche e quindi abbiamo visto anche l'intervento del governo a calmierare. Siccome però sappiamo da studi che questi aumenti impattano maggiormente sul reddito disponibile delle famiglie più povere, allora la riflessione politica è anche per un intervento più strutturale. Che cosa si potrebbe fare? Beh per esempio intervenire redistribuendo alle famiglie e in particolare a quelle più povere i preventi derivanti dalla lotta al cambiamento climatico. Oppure scorporando dalle bollette i cosiddetti oneri di sistema, cioè tutti quei balzelli presenti nelle bollette che hanno a che fare con per esempio i costi di smantellamento di tutte le società legate per esempio all'energia elettrica. Tutto questo potrebbe concorrere in qualche modo a salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie. Negli Stati Uniti la Federal Reserve, lo sappiamo, è pronta al ritiro degli stimoli alla politica monetaria dopo le novità emerse nella riunione della settimana scorsa. Che cosa dobbiamo attenderci quindi a questo punto? Cosa significa questo per i mercati? Dunque la Federal Reserve appunto all'esito dell'ultima riunione, constatato il miglioramento del ciclo economico che ha portato anche una revisione al rialzo delle previsioni per il PIL nel medio termine, ha deciso per un'imminente riduzione del piano di acquisto di titoli. Ricordiamo lo piano d'acquisto che era stato inaugurato lo scorso dicembre proprio per venire incontro alle aumentate esigenze del governo di spesa per far fronte appunto alla crisi del Covid. Come hanno reagito i mercati? Beh, in parte i mercati erano consapevoli dei tempi maturi per una scelta come questa e stanno reagendo adeguandosi a questo nuovo scenario. Ma perché i dati positivi sull'occupazione e la crescita dell'inflazione americana spingono la banca centrale americana invece ad una politica monetaria meno espansiva in qualche modo e rendono sempre più vicino all'aumento dei tassi di interesse? Qual è il legame tra queste due grandezze? Tappering, ovvero riduzione del piano di acquisti, non è direttamente legato a aumento dei tassi di interesse. Per quest'ultimo c'è bisogno di condizioni più stringenti che per esempio coinvolgono il mercato del lavoro. Noi sappiamo che il mercato del lavoro ovunque è stato molto impattato dalla crisi del Covid e adesso è in ripresa, anche negli Stati Uniti. Ma questa ripresa non è ancora giudicata uniforme, quindi non è ancora giudicata in grado di raggiungere un altro obiettivo fondamentale per la Fed che è la piena occupazione. E quindi è chiaro che poi all'esito dell'ultimo FONC è evidente anche un'altra cosa, cioè che una parte importante del board della Fed è ora aperta comunque a un rialzo dei tassi nel 2022, quindi comunque in anticipo rispetto a quanto avevamo ipotizzato fino a qualche tempo fa. Ma le indicazioni che arrivano da oltreoceano come influenzeranno la BCE? Che cosa dobbiamo attenderci noi e soprattutto quali sono i vantaggi per i risparmiatori per un aumento dei tassi di interesse? Beh, la BCE è attualmente impegnata nel mantenere condizioni finanziarie accomodanti e anche nel ricalibrare il proprio programma di acquisto. Detto questo c'è per esempio un elemento che distanzia Fed e BCE. L'elemento è l'inflazione e soprattutto la natura del rialzo dell'inflazione al quale stiamo assistendo negli ultimi mesi. Mentre negli Stati Uniti è un'inflazione che deriva da input interni al sistema che hanno a che fare con i colli di bottiglia sul lato dell'offerta piuttosto che sul fatto che molte imprese fanno fatica a trovare mano d'opera sul mercato e questo in alcuni settori ha portato anche a degli aumenti salariali quindi che impattano direttamente anche sull'inflazione in Europa l'aumento dell'inflazione è quasi totalmente ascrivibile a fattori esterni al sistema fondamentalmente al rialzo delle materie prime in particolare del petrolio. Proprio per questo l'inflazione a medio termine in Europa è vista ancora anche da parte della BCE come più bassa del target della BCE e questo in qualche modo mantiene la BCE relativamente più distante dall'inizio di un ciclo di rialzo dei tassi rispetto alla Fed. Letta, grazie mille, sei stata chiarissima. L'unica domanda che volevo farti ormai è diventata una consuetudine nella nostra rubrica dedicata all'economia a spiegare un termine legato in qualche modo ai mercati finanziari, quindi ti chiedo la differenza tra mercato orso e mercato toro e di spiegarci che cosa significa. Mercato orso e toro, il termine inglese ha proprio a che fare con i movimenti tipici di questi animali. Mercato toro, bull market, mercato a rialzo, ha a che fare con il movimento dell'incornata del toro che va dal basso verso l'alto. Mercato orso, bear market, mercato al ribasso, ha a che fare con il movimento della zampata dell'orso, cioè un movimento che invece va al contrario, dall'alto verso il basso. Grazie mille, abbiamo imparato un'altra espressione dei mercati finanziari. Grazie mille e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.